Siamo in Amiacque, gruppo CAP Holding, per consegnare un lavoro di monitoraggio di lungo periodo effettuato da BM, Tecologi Industriali e Trostudi, a partire dal maggio del 2017. L'attività svolta per CAP Holding è consistito nella progettazione di 50 punti di misura della portata in fognatura e 20 punti di misura della pioggia, quindi pluviometrici. Tutta questa strumentazione è stata posata dalla BM previo progettazione da parte di Drostudi della scelta dei punti, dell'ubicazione planimetrica con successiva validazione da BM. Tutti questi moli di dati sono stati elaborati successivamente per individuare le zone problematiche della rete, per individuare i possibili interventi e per fornire al cliente delle scale delle portate o delle indicazioni strumentali per permettere un monitoraggio fisso della rete di questi sette comuni in gestione a CAP Holding. Abbiamo fatto un lavoro di analisi del rapporto tra le portate e i livelli, finalizzato a capire quali punti di misura fossero più adatti ad avere un punto di misura fisso con gli strumenti misuratori di livello e quale invece con misuratori di portata area velocity. Abbiamo pertanto previsto di installare 47 strumenti di monitoraggio in continuo di cui avremo anche la manutenzione per i prossimi tre anni.